Vincenzo, Mallorca, Roberto, Leopoldo e la Rosa Bellusco, Bedon, Bossi, Leonardo, Bossi, Riccardo Rovigo, Mazza, Bramante, Bramante, Bernabéi E' partita l'ultima gara di questi campionati indoor 2024 categoria allievi junior e senior a Pescara è la 3.000 americana 3.000 senior maschi con Rovigo ora davanti a Siena Rovigo ora Bellusco poi Siena poi Spinea poi Rolling e Bossica poi Priolo mantiene la testa la squadra Rodigina che ora però viene sopravvanzata dai Brianzoli della polisportiva di Bellusco Bellusco, Rovigo, Martinsicuro Ancora Bellusco in testa con Rovigo in seconda ruota si cercano, si trovano e ancora Bellusco, Rovigo, Mensana cerca di allungare la polisportiva di Bellusco vediamo se lo skating club di Rovigo riesce a non perdere la coda della squadra Lombarda con il Siena in terza ruota in questo momento la Menzana ed eccoci qua al cambio con Siena che approfitta nel traffico ed esce davanti a tutti ed eccole nuovamente al cambio vediamo ora se la squadra di Siena avrà la forza di provare a dare uno strappo ma non è facile si riporta sotto il Bellusco sembrano un po' più attardati gli atleti del skating club di Rovigo che comunque resta splendida in terza posizione cambia Mensana, cambia Bellusco cambia anche Rovigo torna sotto anche Spinea per rinunciare il piano ci riesce sulla polisportiva di Bellusco ma è ancora in prima posizione la Menzana e cosa tu chiede lì? cerca spazio lo trova ma tra i due litiganti Spinea si porta in seconda posizione e siamo agli ultimi giri con Siena Spinea che torna sotto Spinea torna sotto Siena Menzana patinatori Spinea torna sotto anche il Rolling Bosica di Martin Sicuro Pagadazio lo skating club ed è ora la squadra di Spinea che si è portata in testa siamo all'ultimo cambio con Siena che riguadagna la posizione siamo all'ultimo cambio ed è in testa Spinea all'interno Siena sul rettilineo opposto a quello d'arrivo cerca di difendere la posizione Spinea lo fa in maniera dura ed è Menzana wow che gara bellissima gara anche questa piena di contatti